Emilia De Biasi, deputato PD, la comunicazione politica come deve utilizzare le nuove tecnologie? Le nuove tecnologie sono una straordinaria opportunità di conoscenza, di relazione e di comunicazione ed è bene che entrino a pieno titolo nella politica perché è abbastanza stravagante pensare che nel mondo noi contemporaneo ci fermiamo alla carta stampata o pensiamo semplicemente agli strumenti più importanti ma tradizionali come le televisioni. Io credo molto alla possibilità della rete, a ciò che il web offre dai diversi punti di vista sia dal punto di vista dell'allargamento delle opportunità ma sia anche dal punto di vista della produzione di nuovi contenuti e della relazione fra contenuti. La politica oggi ha bisogno di idee, le idee hanno bisogno per esserci di partecipazione, la partecipazione ha bisogno di strumenti, gli strumenti sono il luogo e il luogo della rete mi sembra un luogo che può davvero consentire a molte e a molti di intervenire sui diversi temi e consentire anche al nostro strumento online così importante per essere democratici a Milano può finalmente consentire di approire dibattiti e dare quei luoghi che molto spesso magari nel territorio mancano. E da cosa nasce cosa? Io ho una grandissima fiducia anche nella capacità creativa della rete e delle nuove tecnologie e penso che chi vuole fare politica oggi a tutti i livelli si debba cimentare con questi strumenti e con questi luoghi. Grazie